Ma quante cose sono successe dall'ultima volta? Beh, let's get started! Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di eco-minimalismo. Dunque con il video di oggi voglio cogliere l'occasione di rispondere a tutte quelle domande che mi sono state fatte in questo ultimo periodo inerenti alla vita privata e non ho passato gli ultimi mesi a organizzare il matrimonio con Christopher che si è svolto a settembre in Italia ma durante la luna di miele ho avuto modo di raccogliere e collezionare tutte le vostre domande ed è per questo che oggi voglio farmi semplicemente una chiacchierata semplice semplice con voi per aggiornarvi delle ultime cose. Ah ma prima di iniziare voglio anche informarti che sto organizzando durante il periodo natalizio un piccolo tour qui a Londra di sole donne un modo per conoscerci e scoprire la città insieme. Se sei interessata ti consiglio di andare all'interno del mio profilo Instagram e sotto le storie in evidenza Christmas in London 2022 troverai più informazioni in merito altrimenti puoi sempre scrivermi una mail o contattarmi tramite DM. E la domanda che per eccellenza mi è stata fatta in questi ultimi mesi è Valentina che programmi hai per il futuro? Figli? Beh si tratta sicuramente di una domanda molto molto importante io e Christopher ne abbiamo parlato diverse volte insieme e sì sicuramente vogliamo dei figli non abbiamo a dare la verità grandi piani in programma su quando vogliamo questi figli o dove vogliamo che crescano se in Italia o in Gran Bretagna al momento ci stiamo gustando la nostra vita insieme la nostra vita da sposini se i figli arriveranno saremo sicuramente ben felici di accoglierli se non arrivano non importa al momento la nostra vita è piena di cose da fare non solo all'interno della coppia ma anche al di fuori ognuno di noi ha le nostre passioni, hobby e cose da fare nel tempo libero che sicuramente l'idea di avere dei figli non è un'ossessione al momento per noi quindi prendiamo le cose così come vengono nel frattempo andiamo avanti con la nostra vita e ci gustiamo il nostro periodo da sposini Valentina ci avevi promesso un video con il tuo futuro maritino che fine ha fatto? questa è un'ottima domanda io ho raccolto tutte le domande che mi avete fatto all'epoca e l'unica cosa che devo fare è convincere Christopher a mettersi di fronte alla telecamera lui odia la telecamera, odia praticamente quello che faccio perché passo le giornate con la telecamera in mano però devo assolutamente convincerlo a mettersi di fronte alla telecamera e rispondere a tutte le bellissime domande che mi avete fatto quindi abbiate fede, prima o poi il video arriverà anzi se nel frattempo avete altre domande da aggiungere, cambiare o modificare fatemi sapere tutto nei commenti qui sotto che poi gliele faccio a Christopher queste domande hai più finito di ristrutturare casa? questo è un tasto super 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 dolente in realtà la risposta è no, non abbiamo ancora finito è uno dei motivi per il quale non riusciamo a finire di terminare i lavori di ristrutturazione è che io e Christopher abbiamo opinioni e gusti completamente diversi è un dramma infinito perché non riusciamo mai a metterci d'accordo sulle cose e di conseguenza le cose vengono posticipate semplicemente perché non abbiamo neanche voglia di litigare al riguardo quindi vengono semplicemente posticipate ma proprio lo scorso weekend eravamo presi così avevamo lavoratori per casa per finire di sistemare alcune cose ma onestamente ritengo che siamo ancora in super alto mare super proprio però niente speriamo di finirla sta casa perché non se ne può più ecco forse forse tra tutte le stanze la camera da letto è quella è l'unica stanza finita e fatta ho fatto diversi video te ne lascio, te li lascio qui un'altra domanda che mi è piaciuta tantissimo è ti senti ancora minimalista o il matrimonio ti ha sdeviata? questa è una domanda top perché beh innanzitutto organizzare un matrimonio minimal e sostenibile non è per nulla facile ma se hai piacere posso creare un video in merito a come ho creato questo eco minimal matrimonio per quanto sia possibile ovviamente e tornando alla domanda su ti senti ancora minimalista beh diciamo che ho fasi di minimalismo e non minimalismo sicuramente non ho acquistato nulla al di fuori dell'ambito matrimonio in questi ultimi mesi quindi di sicuro non sono tornata a fare shopping da Zara o da H&M però sicuramente l'organizzazione del matrimonio mi ha sdeviata mi ha fatto acquistare cose che ora a distanza di un mese quasi due dal matrimonio guardo e dico cosa me ne farò mai di queste cose adesso prendiamo come esempio l'abito da sposa quindi sì sicuramente il matrimonio la fase del matrimonio l'organizzazione del matrimonio mi ha vista uscire un po' dalla mia routine dal mio percorso però appunto ripeto sono stata felice di non aver perso troppo insomma sono convinta che le cose potevano andare molto peggio sicuramente è un movimento che mi piace è una filosofia di vita che voglio continuare a mantenere infatti in queste ultime settimane siamo da poco rientrati dal viaggio di nozze sto cercando di riassestarmi e di riorganizzarmi con la vita con la routine come per tutte le cose ci vuole un po' di tempo un po' come quando rincomincia scuola a settembre ma tu sei ancora pensi ancora alle vacanze di agosto ecco sono più o meno in quella fase lì sto rincominciando ma appunto ripeto il minimalismo è un gran percorso è uno stile di vita che mi piace di conseguenza voglio assolutamente mantenere poi come tutti ho i miei periodi di alti e bassi ci sono dei periodi in cui lo sento più mio altri periodi in cui invece lo allontano un po' da me ma così vale anche per la sostenibilità non sempre mi è facile essere sostenibile nella vita di tutti i giorni ma quando posso assolutamente porto questo movimento questo movimento eccominimalista nel cuore Valentina sei riuscita a convertire il tuo lui alla sostenibilità? altra domanda che mi piace ma che è super difficile difficilissima no assolutamente no o forse sì su alcune cose perché ci sono alcune cose in cui lui sicuramente mi supporta infatti ha smesso di comprare il sapone liquido nella confezione di plastica e acquista il sapone solido quindi questo è già un passo da gigante però su altre cose sicuramente non siamo allineati diciamo che la sostenibilità non è una sua filosofia di vita come invece lo è nel mio caso però cosa posso dire donne? la speranza è l'ultima a morire io ovviamente vi terrò aggiornate su tutte le piccole conquiste e niente cos'altro posso dire? prendo quello che viene e come ho già menzionato in diversi video cerco di non sforzare la cosa ma semplicemente di mostrare come si può fare la stessa cosa in modo diverso in modo sostenibile no? cosa dici? faccio bene o faccio male? forse è arrivato il momento di spingere un po' un po' di più di sforzare la cosa? beh ci penserò dove sei stata in viaggio di nozze? dunque il viaggio di nozze lo abbiamo fatto alle Maldive bellissimo quando ero lì ho postato qualche storia su Instagram e in diverse mi avete scritto anche io sono stata alle Maldive e diciamo la verità quanto belle non sono le Maldive cioè davvero un vero e proprio paradiso terrestre strepitose consigliatissime divine cioè io potrei trasferirmi e vivere lì ma d'altronde non potrebbe vivere così è interessante anche come ci si arriva alle Maldive quella è davvero un aspetto fondamentale interessante del viaggio prendere il seaplane prendere come si dice in italiano l'idrovolante è già un'esperienza che consiglio a tutti è davvero una figata quindi sì assolutamente le Maldive sono state un vero paradiso terrestre ci siamo divertiti ci siamo stati bene non abbiamo fatto niente ci siamo assolutamente rilassati ed è stata una honeymoon una luna di miene davvero eccezionale che quasi quasi non vedo l'ora di farne un'altra guarda perché mi sono proprio divertita progetti per il 2023? di progetti ce ne sono sempre tanti io adoro fare progetti per l'anno nuovo però non voglio dire di più al momento perché se ci sono delle novità saranno delle novità piuttosto interessanti che coinvolgeranno anche voi in modo particolare tutte le donne quindi vi lascio un po' così con un po' di suspense solitamente lancio le primissime novità sempre attraverso Instagram quindi se mi seguite lì probabilmente sarete i primi a conoscere di queste novità appena il 2023 prenderà avvio counting the days quasi bene dunque io penso di aver risposto alle domande più salienti e spero che questa chiacchierata vi abbia tenuto compagnia ovviamente se sei interessata a sapere di questo tour natalizio che si svolgerà qui a Londra controlla la mia pagina Instagram e contattami in privato mi raccomando non perderti questa opportunità noi come sempre ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video e nel frattempo ti auguro un buon weekend a presto un bacio ciao